La situazione è molto pesante e questo ci preoccupa perché la stessa cosa potrebbe succedere anche dalle nostre parti sebbene sappiamo che siamo in una situazione, almeno spero e mi auguro, di essere in una situazione migliore perché i consorsi in Veneto, tutti quanti, funzionano. Il Veneto e i consorsi di Bonifica stanno facendo la loro parte in Emilia-Romagna ma il rischio alluvioni nel nostro territorio resta. Per questo è costante il lavoro di pulizia e controllo dei fiumi come continua la progettazione di nuove opere di salvaguardia. I scolmatori nella zona di Rubano, il scolmatore che partirà da Marostica, il bacino del Vanoi sono tutti interventi che vanno nel senso del disesto geologico, nella sicurezza geologica del territorio.